Ragazzi, allora, lago dei quattro cantoni, tu hai presente qualcosa? Sì, no, presento. Forse lago di Nosciateri, primo forse. Sono i due secondo me più grandi. Quale? Eh, quattro cantoni e Nosciateri. Eh, quale tra i due primo? Mi piace che così, però è troppo... bisogna cambiare qualcosa. Invertirei forse lago di Lugano con lago di Bien. Ok. Volete farlo? Sì. Allora, Bien scende, Lugano sale, ok? Quei due su. Nosciateri, Nosciateri, quattro cantoni. Nosciateri prende... Nosciateri è su in alto a sinistra. Quanto è grande? Le mani, decisamente quello sotto grande, che non è quello di Nosciateri. Spero di non aver fatto una caff. Lago di Lugano, lago di Bien. Bien, dieci secondi. Dove sia, sinceramente. Cinque. Va bene così. Quattro. Lascia così. Allora, Lugano e Bien sono gli unici che avete spostato, se non sbaglio. Adesso l'avete lasciato così. Erano abbastanza difficili, anche avendo una cartina a disposizione, probabilmente non sarebbe stato facile capire effettivamente qual è il più grande. Perché uno ha 49 km quadrato, l'altro 40. Pochissima la differenza. Ma Lugano in terza e Bien in quarta è giusto. Poi il lago dei quattro cantoni, come giustamente avete detto voi, è assieme al lago di Nosciatel, tra i più grandi di questi quattro. Il lago dei quattro cantoni misura circa 114 km quadrati. Ma il lago di Nosciatel è più grande, quasi il doppio, 215 km quadrati. Ariane Antonio, mi dispiace, per un vero, ci siamo andati davvero vicini. Grazie Antonio, è stato comunque un piacere, grazie Ariane, è stato un piacere. Dopo noi farò, perché è giovedì, ma prima i saluti da Bangkok, di Silva e Soleil. Grazie a tutti, grazie a tutti.